Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dalla terza dal titolo Sulle orme del sacro, i santuari dell'Europa occidentale IV-XVI secolo di André Rocher che abbiamo il grandissimo onore di avere il nostro gradito ospite e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego professore, a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, sono molto lieto di parlare di questo libro appena uscito che è la traduzione di un libro, del libro che ho pubblicato in francese due anni fa sotto un altro titolo ma non molto diverso e finalmente che esce in Italia. Finalmente perché è un libro che deve molto all'Italia, io sono stato per 18 anni in Italia e alla fine ero direttore della scuola francese di Roma di archeologia e storia e lì avevo lanciato un programma di ricerche su spazio e fede, spazio e santità e dunque con tanti colleghi, amici, collaboratori abbiamo fatto un inventario, un scensimento dei santuari italiani per il quale abbiamo raccolto più di 3.000 schede computerizzate, eccetera. Quindi tutto un lavoro attorno al tema dei santuari che era, non solo a me ma anche ai miei colleghi, tanto caro e che ci era sembrato importante perché era stato trascurato a lungo, c'era molto parlato dei peregrinaggi, dei santi, eccetera, ma il santuario come fenomeno non era stato finora tanto studiato. Quindi questo mi ha dato l'idea di fare un po' il punto, di raccogliere tante informazioni che avevamo riunite su queste database e attraverso queste ricerche, convegni e altre riunioni, diciamo, di riflessione metodologica. Ecco, quindi è un lavoro un po' conclusivo per me, almeno di una ventina d'anni di ricerche sul tema dei santuari. Primo ho fatto dei lavori sul culto dei santi, sulla canonizzazione dei santi nel Medioevo, sulla religione popolare, quindi ho girato attorno, ma in questo volume ho voluto concentrarmi sui santuari. Quindi praticamente non si tratta di un catalogo, si tratta di un viaggio nella storia dei santuari. Sono europei o italiani esclusivamente? Allora, io ho studiato il fenomeno dei santuari a livello dell'Europa occidentale, tendo a precisarlo perché il mondo bisantino, greco, è abbastanza diverso, anche se esistono anche dei santuari da queste parti, senza dubbio. Dunque l'Occidente, dalla tarda antichità fino all'inizio dell'età moderna, cioè dopo la riformazione protestante, le cose cambiano perché c'è tutta una parte dell'Europa che rifiuta il culto dei santi, distrugge i santuari o li abbandona, quindi mi sembra che lì c'era una tappa che segnava la fine di un processo durato più di mille anni. e ovviamente non si poteva parlare di tutto, mi sono concentrato soprattutto sull'Italia e la Francia, sono i due paesi che ho studiato più da vicino, ma prendo anche alcuni esempi, in Spagna ovviamente parlo di San Giacomo di Compostella, in Germania, in Inghilterra, quindi la prospettiva mia è europea. E se uno volesse sintetizzare, qual è la caratteristica principale che presentano i vari santuari? Allora, il libro comporta tre parti. La prima parte cerco di definire un santuario, dare una definizione al più pratica possibile. Infatti il concetto stesso di santuario non è così chiaro, perché talvolta si dice il santuario per una chiesa perché è bella o grande e quindi c'è una certa confusione a livello del vocabolario odierno. Penso che bisogna essere chiari, tutte le chiese non sono santuari, non c'è dubbio, una chiesa parrocchiale qualunque è una chiesa ma non è per forza un santuario. Ci sono dei posti, non solo delle chiese ma anche dei posti che sono riconosciuti santuari, per esempio la grotta di Monte Sant'Angelo, uno dei più grandi santuari d'Italia e dell'Europa nel Medioevo. Non è una chiesa, è una grotta, una grande grotta trasformata in chiesa, sì ma all'origine è una grotta come a Lourdes, per esempio ancora più recente e di qui che non studio perché si tratta dell'Ottocento. Lì ci sono dei fenomeni naturali, ci sono dei posti naturali che sono diventati dei santuari, ma per maggior parte dei casi un santuario è una chiesa dove succedono dei miracoli, dove la gente viene in peregrinaggio almeno una volta all'anno e dunque che ha un prestigio particolare perché lì il cristiano visitatore può avere un ospera, di avere un contatto diretto col sacro, col sopranaturale che non trova sempre allo stesso grado o almeno nella chiesa parocchiare che è la sua. Quindi non è una regione diversa da quella che pratica nell'ambiente del suo paese o del suo quartiere, ma è un altro modo di avere contatto con l'aldilà, col sacro. E questo fenomeno dei santuari dunque è nato dal fatto che ci sono dei posti, dei luoghi ritenuti santi, per esempio a partire del quarto o quinto secolo si comincia a parlare di terra santa, perché terra santa? Perché la terra dove Cristo è vissuto, ha sofferto, è morto, eccetera. Quindi già un paese, quello dove si svolge il Vangelo e diventa una terra santa. Poi ci sono i posti dove sono morti o stati uccisi gli apostoli, Pietro e Paolo a Roma, eccetera. E poi la cosa si allarga rapidamente a tutti i santi cristiani, a cominciare dai martiri e alcuni santi più, diciamo, più importanti della chiesa che sono i santi guaritari, terapeutici, quelli che fanno delle guarigioni. E lì abbiamo un numero molto alto di santuari dove succedevano dei miracoli terapeutici. diciamo. Ecco, dunque il fenomeno dei santuari è legato al culto dei santi. Ma non, questo lo provo di dimostrarlo nella seconda parte, non tutti i santi, le cose cambiano a secondo dei secoli e lì l'aspetto storico è importante. Per esempio a partire dell'undicesimo secolo, già del decimo, c'è un ritorno alla persona di Cristo e di Cristo umano, di Cristo come vissuto sulla terra. E la gente, i cristiani, tornano sempre di più a Gerusalemme. Gerusalemme per i cristiani, la città santa. Per riconquistare Gerusalemme faranno tante crociate, come si sa. Quindi c'è Gerusalemme, ma ci sono anche altri posti ritenuti sacri. C'è Costantinopoli, non dobbiamo mai dimenticarlo, perché gli imperatori bizantini che avevano dominato l'Oriente e hanno accumulato le reliquie, hanno prelevato delle reliquie in Palestina e le hanno portato nei loro palazzi, nelle loro chiese a Costantinopoli. Dunque Costantinopoli è un po' la seconda città nel mondo cristiano a quell'epoca, fino all'inizio del XIII secolo. Poi c'è Roma, ovviamente, Roma a causa di Pietro Paolo e di tanti martiri che sono anche nominati nel canone della messa, quindi figure di spicco. Una cosa che noi abbiamo dimenticato, ma che era importante per tutto l'Alto Medioevo, almeno fino all'XI secolo, è Tours. Tours è una città francese dove si viene a San Martino e San Martino, non dobbiamo mai dimenticarlo, è stato uno dei santi più importanti, più popolari del mondo franco, ma anche della cristianità. Ci sono delle chiese, dei santuari in San Martino, in Italia, in Ungheria, dappertutto. Quindi Tours, fino al 1100, era uno dei grandi poli santuariali dell'Europa. E poi con questa ripresa, dunque, la spiritualità cambia, si mette l'accento sull'umanità di Cristo e sugli apostoli. E allora nascono, si sviluppano dei santuari legati agli apostoli, come San Giacomo, il Compostella, a partire del X secolo, diventa sempre più importante. E ci sono altri posti legati ad alcuni apostoli che diventano grandi focolai, diciamo, di spiritualità apostolica. Poi non dobbiamo dimenticare le donne perché c'è anche Maria Maddalena, per esempio. Il suo grande santuario è a Veselè, in Borgogna, dove i monaci dicevano di aver ritrovato le sue reliquie e che diventando il XII secolo uno dei grandi peregrinaggi europei. Da lì parte, per esempio, la seconda crociata, predicata da San Bernardo. E non è un caso se si radunano, i crociati si radunano a Veselè, che è veramente una bellissima chiesa romanica che si può vedere ancora oggi, ovviamente. Dunque, spiritualità apostolica, nascita o sviluppo di santuari apostolici legati al ricordo della vita evangelica e apostolica. E poi, man mano che si va avanti, sono nuovi santuari sempre che nascono, legati a figure monastiche, quelle di San Bernardo, per esempio. Ma bisognava qui andare cauto perché i monaci non volevano, dipende, c'erano dei monaci che non volevano essere disturbati nella loro vita spirituale, che aveva bisogno di calma, quindi non volevano essere disturbati dai peregrini che, in alcuni casi, si sono astenuti, diciamo, di pubblicizzare i miracoli dei loro santi. Abbiamo anche casi in cui un abate vieta al santo che è morto di fare dei miracoli, perché sennò sarebbe un problema, diventerebbe un problema per il monastero. Ma in alcuni, numerosi casi, ci furono anche dei santuari monastici, tanti tanti, che hanno attratto la gente. Poi, col tredicesimo secolo, arrivano gli ordini mendicanti e anche lì nascono nuovi santuari ad Assisi, ovviamente la chiesa di San Francesco, ma soprattutto la Porziuncola e San Domenico a Bologna. e così via. Sant'Antonio di Padova. A Padova nasce anche questo grande santuario che esiste tuttora. Bene, quindi sono un po' delle ondate successivi di nuovi santuari e alla fine Medioevo sono soprattutto santuari mariani che nascono tra secolo XIV e XVI secolo. Nascono migliaia, se sai, generazione, di santuari dedicati alla Madonna. Piccoli e grandi, ci sono i grandi, sono i conosciuti. Abbiamo il santuario di Loretto che diventa uno dei maggiori santuari della cristianità a partire del secolo XIV fino a nostra epoca quasi. Nascono anche delle città-santuario, come Assisi per San Francesco, Loretto con la Santa Casa che attraggono i peregrini e dove si moltiplicano i miracoli. Fino al momento in cui questo aumento costante di santuari si ferma un po' con la, come ho detto prima, con la riforma protestante che non accetta questo fenomeno e ricerca invece un contatto con Dio solo attraverso la sua parola e dunque rigetta tutte le manifestazioni di tipo miracolistico e peregrinaggi, santuari eccetera. Ecco le grandi linee cronologiche del lì, libro e poi la terza parte, allora lì studio le diverse tipologie di santuari perché ci sono di santuari di diversi generi di santuari, secondo la natura dell'oggetto venerato, il più spesso sono delle reliquie, ma man mano che si va avanti nel Medioevo si sente sempre più immagini, immagini sacri, immagini della Madonna venuti dal mare perché si ritrovano spesso nelle leggende di fondazione l'idea che un quadro, un dipinto, una statua della Madonna è arrivato miracolosamente o dal mare o è stato ritrovato da un contadino nel suolo e allora talvolta c'è un'apparizione ma che segnala a uno che deve scavare troverà un'immagine della Madonna. Comunque nascono un'increibile numero di santuari mariani in questi secoli. Poi questi santuari diventano dei luoghi di potere perché sono attraenti, ci viene molta gente e quindi bisogna canalizzare questa devozione che si fa viva nei santuari e ci sono tentativi da parte dei poteri laici, per esempio a Parigi Luigi IX o San Luigi crea la Santa Capella per ospitare la corona di spina che aveva comprato ai veneziani che loro stessi l'avevano comprato all'ultimo imperatore bisantino, latino ma di Costantinopoli e a partire di questo possesso della corona di spine provano di creare un halo di sacralità attorno alla regalità alla dinastia capezziana francese e creano delle sante capelle dappertutto e poi anche le città creano dei santuari, i comuni italiani specialmente si creano delle chiese per esempio per ringraziare la Madonna di essere stati salvati dalla peste, delle epidemie nel Trecento e il comune crea un santuario votivo per una sorta di ex voto collettivo alla periferia della città come vediamo ancora oggi a Todi o a Assisi in tante città e gli ordini religiosi pure che si sviluppano soprattutto a partire del XIII secolo con i mendicanti creano dei santuari, il santuario certo di San Francesco ne ho già parlato ma anche in piccoli posti come La Verna in Umbria dove Francesco avrebbe ricevuto le stimmate e tanti altri posti dove la gente va a cercare cosa cerca la gente quando va a un santuario dipende anche dei posti e delle epoche di solito cercano una guarigione, ma guarigione nel senso largo della parola, cioè non solo fisica, non solo delle malattie ma anche di un malessere generale, oggi si direbbe forse una depressione perché per gli uomini del Medioevo non c'era tanta differenza tra corpo e anima, era un insieme, quindi se uno è malato è malato perché c'è qualcosa che non va nella sua anima, nel suo cuore, quindi si chiede sì la guarigione, anche lui, ma anche una conversione, si direbbe oggi un ritorno al senso cristiano attraverso il contatto con le reliquie, con i ritratti, le immagini miracolose della Madonna o di altri santi che sono sempre più venerate in occidente e poi il peregrino, c'è il fenomeno dei peregrinaggi ben noto, già studiato, ma prima a studiare cosa fa un peregrino quando entra in un santuario prega, prega, certo chiede delle cose e prega spesso per otto giorni perché si chiama una novenna normalmente il peregrino avrebbe dovuto stare una novenna, otto giorni, talvolta va via prima ma l'ideale è di stare nella chiesa, talvolta giorno e notte a pregare e alla fine torna a casa guarito o no, ma noi conosciamo solo i casi di guarigione perché abbiamo dei libri, in questi santuari i chierici che li gestivano avevano dei libri, libri di miracoli dove notavano ogni giorno i miracoli che succedevano e attraverso questi libri di miracoli, ne abbiamo un certo numero, sono abbastanza numerosi possiamo provare di rintraziare la mentalità del peregrino dalle sue domande, come faceva e faceva una sorta di patto, oggi direbbe di convenzione col santo che pregava se mi restituisci la salute, se mi dai tale cosa, io sarò un po' il tuo servo ti pregherò, ti farò celebrare delle messe in tuo onore, farò fare una pittura con la tua effigie e questo porta al fenomeno dell'ex vuoto, che non è tipicamente cristiano se ne trovano già delle antichità per le divinità romane o greche ma c'è a partire del XIV secolo uno sviluppo dei ex vuoto pinti sono piccoli dipinti, talvolta mediocri dal punto di vista artistico ma molto interessanti perché riflettano la gratitudine del malato ma che fa dipingere il suo problema, il suo malore, la sua malattia lo fa dipingere su una tavola o su un pezzo di legno e che lascia al santuario quando va via e dunque sono anche testimonianze che dobbiamo esaminare molto più attentamente che si è fatto nel passato ecco, e poi come dicevo la chiesa alla fine del Medioevo cerca di incandare la spiritualità popolare perché c'erano anche dei santuari che ai chierici non piacevano tanto santuari di grotte che erano dedicate a San Michele ma dove si facevano talvolta dei riti un po' strani quindi vediamo che al fine del Medioevo c'è un inquadramento dei santuari soprattutto da parte degli ordini religiosi che gestiscono i nuovi santuari come quello di Caravaggio è nato nel 300 in Lombardia e tanti altri nuovi santuari che sono gestiti dai medicanti soprattutto dai francescani e agostiniani come quello di Tolentino dove gli agostiniani venerano le spolie del loro fondatore non fondatore ma uno dei loro primi santi che è Nicola Tolentino dunque arriviamo a questo punto della fine del 400 e inizio 600 dove tutto il sistema entra in crisi perché probabilmente si sarà abusato dei santuari e tutta una parte dei teologi reagisce contro questi abusi e l'utero e tutti i grandi riformatori rigettano questi fenomeni vietano ai cristiani di andare in peregrinaggio o di frequentare i santuari perché per loro è una superstizione e solo la parola di Dio è importante in modo sommario il riassunto di questo processo è un libro davvero interessante e imperdibile quindi bisogna correre in libreria e acquistarlo per conoscere a fondo questo anche fenomeno perché è una storia che riguarda le strutture ma riguarda anche la gente che le frequentava riguarda le abitudini gli usi, i costumi quindi io ricordo il titolo che è particolarmente azzeccato perché è sulle orme del sacro i santuari dell'Europa occidentale quarto sedicesimo secolo appena pubblicato dalla terza di André Vochet che abbiamo avuto il grandissimo piacere e onore di avere il nostro grandito ospite che io ringrazio tantissimo per avercene parlato e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate insieme a questa anche tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora professore e a presto niente vi ringrazio lei grazie a tutti